ok ragazzi, perdonatevi per quell'errore brutto no no eccoci ritornati signori, eccomi qui ritornato avanti mi scuso per quel problema che avevo fatto ieri perché per sbaglio io ho resettato e si è fatto tutto quanto quindi adesso sono andato a catturare i signori, non starli per andare più avanti, per andare a partecipare oh uno shinx, perfetto, sono sulla seconda versione di pokemon platino quindi direi di andare avanti comunque non ti voglio affrontare shinx, e niente, ho catturato starli, andiamo perfetto, la tua squadra di pokemon per qualsiasi ok e raga che dite, finisco di, come si chiama, come si chiama starli me lo alleno fino al livello 9, uguale a piplap e poi ci vediamo lì me lo alleno davanti a voi per chi non so, cioè in questa parte voi mi metterò, dovrò fare proprio così biduf che culo aveva uno star di livello 4 l'ho trovato a culo quindi quello sta perché si può trovare a livello 2 e di solito a livello 3 però io tra un po' ci schianto e infatti ci sono schiantato, vaffanculo vabbè ne approfitto per usare piplap e usare botta beh, per talo sono magari a livello 10 e vado a sbagliare non ho mai marco sei un pro tranquillo no no, sei veramente sei un pro eh, chi ti dice tutto raga, eschereee no, basta non ti vuole il perfetto perché mi stai facendo perdere tempo quindi muoviti fa un culo dai vediamoci star di che purtroppo me l'hanno ammazzato col figlio di puttana di biduf me l'ha ammazzato dovrà essere sepolto dentro lì mi cato da una parte bruttissima eh, Battista, Battista San Giovanni Battista può accompagnare solo vi ripeto, San Giovanni Battista può accompagnare come domanda per il giorno vi chiedo qual è il vostro chef preferito il mio è ehm, no, aspetta, ce l'avevo un preferito, come si chiama? è Mbastianich il mio preferito chef oh, si è fatto pomeriggio, wow ah, che bello star di imparato attacco rapido finalmente un attacco più forte di azione e più forte di potenza il mio è che bello star di potenza che bello star di potenza che bello star di potenza ma che cazzo? ma che cazzo sta laggando? sta laggando oh, si elimina Tavi, ma so che palle quando sto registrava ci mancava solo questo signori, forse solo in questo sono bravo dai dai e che... attenzione oh, eh madonna che cacchio per sbaglio mi è partito il tasso perdonatemi vai con attacco rapido azione attacco rapido 20 o le per l'ostrata spatti spattis azione volo farà tocco un po' di questo però ci si mette anche lui anche il capo dei suoi Raga è falloso certe volte allenare i pochi Però vi dobbiamo allenarmi Infatti sto facendo la live solo per questo Ma non mi metto a fare la live a sto punto Raga la vostra volta mi metto a fare la live Non sto scherzando perché è un po' Sì, stare due ore Vabbè che una volta però l'ho fatto No, la live mai fatta in vita mia Però per conto mio giocavo per conto mio un botto di ore Io gioco di solito un bel po' di ore Tipo due ore, un'ora, tre ore Mi è capitato da un'altra quattro ore Perché avevo voglia di giocare Perché io adoro giocare a videogiochi Ah, tutti adoro giocare a videogiochi Penso che ci sono 24 ore sui videogiochi No, 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 ok Oddio Shinks No, no, Shinks non la voglio catturare Dai, dai, e dai Oh, io voglio andare pure avanti Che cacchio Avrizio, Battista, Battista Raga, a livello 8 porto Stardy La questione finisce qui, punto Cioè, posso stare a smagodonnare Perfetto Stardy livello 8 Quindi ho allenato i Pokémon 9, 8 Quindi Piplup Mettiti avanti perché voglio usare te Affrontiamo il Gennaro Bullo Signori, prima lotta Mamma mia Poi mi vado a mettere quell'albero Vabbè Un altro errore mio Usato Perfetto Perfetto Secondo allenato di scuola Mi sento carico Mi sento Bidouf Che cosa Veramente È un attimo Che ragazzo Piplup Ragazzi Scusate un attimo Ma Allora ragazzi Ci vediamo Tra due secondi E poi torno Tranquilli Ritornerò subito Tra 3 2 1 E poi Dopo Raga Eccomi di tornato E Sì Sono qui di nuovo Perdonatemi Per questo Lungo arrivo Però per voi Sarà stato due secondi Per me è stato tanto Invece Già Arriviamo fino Signori a Giubilopoli E poi Stacchiamo la parte Per poi Registrarne un'altra Ok Ok Preciso Sì 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 Tanto Non mi fai Niente Vorrei che Conoscesse Attacco D'ala Purtroppo Non la conosce Perché Cos'avrei Vinto Attacco Rapido Bene Sali di livello Starly Grande Livello 9 Attacco D'ala Perfetto Signori Vai Tu non sei un allenatore Troviamo una pozione Perfetto Prima di salire Prendete questo oggetto Che si trova qui Una polvo stella Che è molto importante Non è molto importante Quindi vabbè Vi faccio vedere anche L'animazione Per sicurezza Di Attacco D'ala E via Signore Quell'uomo Che cazzo Cazzo Fai Che cazzo Perfetto Noi ci vediamo Una prossima Parto